Ok, funziona Youtube è sempre d'aiuto, Youtube Ok, funziona Uva dilatata Vabbè, tu non mi interessa Tagliamo per di qua Non c'è nulla Possiamo scendere Oh, per ora qui è stata obbligatoria Ehm... Usa nebona, va Pauva Ok Pauva No, non mi fa Fuori Voglio usare il mio cavallo No, non mi fa Cosa c'è là? Che cosa siete? No Vabbè, nulla di particolare Attenzione di una runa Sembra un po' eccessivo Sotto ci siamo già stati Allora, qui non c'è nulla Andiamo per di qua Andiamo verso il punto 1 No, alzo di qua All'altro tizio Il secondo Quindi da qua in avanti Possiamo proseguire normalmente Sì, c'è qualcosa Eccoli qua Allora, noi siamo qui Possiamo andare Per di qua E un po' siamo andati Oppure possiamo andare per di qua Io direi di fare Uno, due, tre Quattro E ci Che noi Là sopra ci siamo stati E ci siamo stati anche là sopra Metti questo Metti questo Metti lo scudo Ah, una grazia Questa è inaspettata Ok Andare anche per di là Ci andiamo Adesso Questa è inaspettata Questa è inaspettata E qua Ok Da qua possiamo andare O di qua O di qua Andiamo per di qui Ah, qua mi sa che ci siamo già stati C'è la grazia qua Sì Abbiamo girato intorno Perfetto Tra virgolette Perfetto Torniamo indietro Andiamo da quest'altro lato Stiamo a più in alto possibile Stiamo a più in alto Ok, non siamo nemmeno morti Perfetto così Ahia, lì mi sa che... Beh, qua sono morto No! Strano però Allora, nasconditi e non fare rumore Attendi il momento giusto Combattere fuori discussione Accovacciati nel sottobosco No! Resisti, resisti Ah, che palla però Uva dilatata E anche tu ci lasci Proviamoci E proseguiamo Dove stiamo andando? Verso il Tuguri dell'anziano Dove l'ho visitato questo luogo? Eh, lì in fondo c'era un altro di questi tizi Ah, ecco qua No! No! Posso dirle che è un po' pallosa questa zona? Non mi pare così qua Scusami, torna qui Mi sembrava una zona già vista Da qui A massimo qui eravamo Musciamoci questo punto 1 Come segnalino Era un po' qui eravamo, un altro che E' un po' qui eravamo, un po' qui eravamo Eh dai Va di pastardo Quindi abbiamo un altro E' un po' qui Pure di Mori Questo cos'è che Mentre potesse l'attacco in possibilità della collina Non mi interessa Ok Io un'altra grazia Prendi vai 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 Io mi curerei proprio Guarda Ripositi Dove siamo? Qui proprio Fondo in fondo in fondo A questa zona Mori E non ci pensare Messo E non ci pensare E non ci pensare Io un oggetto Ricettario dell'artiglio folle Sette ne abbiamo solo una e la prendiamo Andiamo verso di qua Saliamo per di qui Sali Vai, sali, sali Eh, sì, ma non posso fare nulla da qua Tutti i tizi Però mi pare siano quelli che posso uccidere Sì Ok Ah io sono salito da sopra Sono passato da sopra E l'ho dovuto fare lì Ok Andiamo per di qua E scendiamo verso il punto 4 Curiamoci C'è nulla Io ho visto un nemico Dovrebbe essere uno di quelli easy da affrontare Sono due in realtà E poi tu Ah, apposta Aspetta un attimo Tienimi il punto 1 qui E noi continuiamo a salire invece No Dobbiamo non cadere sotto Non c'è niente L'oggetto L'oggetto L'oggettario dell'artigiano folle numero 2 Ok Allora Adesso noi dobbiamo tornare indietro Quindi seguiamo il punto 2 Per di là Zona molto 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 Noiosa Ok 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 Ci siamo E da qua Ci buttiamo giù Ok 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 Un'edificio Edificio vuol dire grazia Ok Nemici No No Che schifo Non si apre da questa porta Da questo lato adesso Dai No si apre Attenzione Ecco la grazia Eccola grazia E' questo un quadro E con te parlo dopo Voglio andare un attimo fuori A fine di esplorare la zona Secondo me In questa zona qui Qualcosa non l'ho trovata sicura Secondo me Un'edificio 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 Ma non c'è niente Quel punto 3 cos'è? Ehm, dov'è? Qua No, non mi interessa, l'avevamo già visto E poi devo togliere anche 1, 2 e 3 Sì, anche perché quella zona non la voglio più esplorare Senza torrente Non ci penso proprio Ma si può salire? Non c'è nulla Allora, abbiamo chiamato a dirmi quel fantasma E poi Chiudiamo questo video Dov'è l'ingresso? Qua Canonica di Midra si chiama Allora, che hai da dirmi? Ti porgo il benvenuto Ospite a sorpresa Mi raccomando, prima di entrare Tieni a mente le parole dell'illustre Midra Non avvicinarti alla follia Se non vuoi soccombere Va bene Allora, riposiamoci Non possiamo fare nulla Per cui ci vediamo nel prossimo episodio Ma se questa porta prima si apre? Impossibile aprire da questo lato E quindi Che What? Non la posso aprire da questo lato? Dove l'apro? Ah LOL Ok E allora ci vediamo nel prossimo episodio E iniziamo da questo punto